Ciao a tutti, voglio partire da Politiche Giovanili, per rendere Monza la capitale dei giovani, con progetti culturali ed integrazione. Svilupperei progetti di lavoro, studio, sostenibilità, protagonismo culturale e sociale dei giovani. Progetti per le diverse culture e l'integrazione delle stesse. Spazi, attività e servizi per e con i nuovi cittadini. Progetti di attività sociali e molto altri.